Mi sono sempre chiesta chissà che effetto sarebbe baciare Luca Salta, ecco. Adesso lo sai. È stupendo! Sono stupendo? No, di più! E aspetta adesso cosa arriva il resto, aspetta il resto adesso. Il resto? Beh, dobbiamo insomma, io a questo punto non riesco più a tornare indietro, no? Tu sei tanto incantevole. No, 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 no. Oddio, che guaio, che guaio! Ma non ve l'ho nessun guaio! Ma sì che è un guaio! Perché a me piacerebbe da morire fare l'amore con te, così potrei raccontare qualcosa ai miei nipoti, ma... Per favore, lascia stare la sua mamma. Commetterai adulterio! Lascia stare la sua mamma.